siccome mi hanno chiesto dei consigli scrivendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra però io non do più risposte per mia esperienza di vita perché le persone prima fanno come cazzo gli pare dopo che gli ha dato i consigli secondo non si fanno più risentire quindi se una persona vuole avere dei consigli e visto che non sono pagato io li do alle persone per cui vale la pena dare dei consigli quindi è un gruppo ukolele indipendente Italia che è in diretta opposizione a Ukolele Club Italia già il nome lo dice indipendente, non sono in contatto con nessuna marca di corde con nessun negozio di ukolele in Italia e sono indipendente sono veramente indipendente se io dico queste cose qui non è che mi levano da un palco dell'Ukolele o da un festival sponsorizzato da Ukole e Aquila non ci sono mai stato non ci voglio andare se voglio assonare non voglio andare in riserve indiane di persone che suonano l'Ukolele voglio essere preso per quello che sono quindi sinceramente non do più consigli tanto so che nel 99% dei casi non vengono seguiti ma quando uno ci mette il nome con la faccia perché Facebook c'è la faccia e posso controllare se è un profilo vero o no è più difficile che queste persone prendano il consiglio e scappino ok? anche perché certi consigli secondo me vanno dati parlando con una telefonata perché se no è aria fritta se io non so veramente cosa vuoi tre minuti tre minuti mi parli mi fai una telefonata con Google Messenger una chiamata vocale e ti spiego tutto però tu mi prometti che poi mi dici quello che hai fatto ok? perché la conoscenza è potere la conoscenza normalmente si paga oh io sto andando grazie come dice chi sei tu? solo una persona che ha fatto dei video che hanno 12.000 visualizzazioni in cui parlo dell'Ukolele allora voi mi dite un video un video fatto non dove uno suona dove uno parla dell'Ukolele in Italia mi dite un video dove una persona in cui in Italia parla dell'Ukolele in modo ci saranno alcuni che cazzeggiano però è un video tecnico tecnico fatto con una certa competenza da altre persone non un video fatto per le persone che ci capiscono niente in cui ripetiamo le solite cose che sanno tutti un video in cui spiego alcune cose rapporto fra la lunghezza delle corde l'intonazione quals'è il suono dell'Ukolele perché un soprano un conso intonato soldo Milà ha il suono tipo l'Ukolele ma un baritono intonato la stessa ottava soldo Milà non ha il tipico suono dell'Ukolele perché così perché colà vi spiego vi spiego alcune cose vi faccio sentire alcune cose vi parlo di di alcune cose da guardare quando si compri un Ukolele vi spiego perché gli Alibenton hanno il migliore rapporto qualità prezzo attualmente sul mercato vi spiego un sacco di cose ora o vedete quei video là e vi informate oppure se volete qualcosa di specifico a parte che secondo me alcune persone che vedono che mi chiedono delle cose non sono andati a cercare i video dove parlo dell'Ukolele va bene questo io voglio dire cioè l'esperienza di vita è importante tanto so che tutte le persone a cui ho mostrato molta disponibilità rispondendo su questo canale sono scomparse nel nulla ma allora andate a fanculo scusate ve lo dico proprio chiaramente vi levate dal mio canale non me ne importa niente mi posso permettere di fare quello che mi pare perché questo canale non è monetizzato questo canale non è per il mio ego al contrario di altre persone questo canale è perché io credo in alcune cose anche per esercitarmi in mettere dei video ok ma quando parla perché io ci credo veramente in quello che dico però ho capito che buttare per le porci è una fatica sprecata cioè che vuol dire io faccio il mio video ve lo vedete anzi dovrei fare una playlist parlo dell'oculele ecco questo non l'ho fatto perché ci sono dei video dove parlo dico alcune cose se mi chiedete se mi chiedete alcune cose che palesemente si vede che non ci avete capito niente non è attraverso un commento detto così che vi farò cambiare idea quindi o fate le cose fatte bene quindi mi chiamate io ho 5 minuti di esposizione vi spiego per filo per segno 5 minuti possono dire tante cose questo sono stati 5 minuti e poi fate quello che vi pare altrimenti è fiato sprecato e io non faccio più tanto perché io dico una cosa intelligente il 90% delle altre persone dell'oculele dice aria fritta cose che nel migliore dei casi sono banali nel peggiore sono palesemente false che ci posso fare io quindi devo stabilire un principio scusate vi dico di autorità prima devo capire che io dico le cose non sono il papa che parla ex cathedra però siccome ci ho pensato molte cose le ho provate corde non corde intonazioni quindi parlo con cognizione di causa quindi è più facile che non mi sbagli io che altre persone che aprono la popocca non hanno capito un cazzo non hanno mai suonato un chitarlele non hanno mai suonato un uculele baritono aprono la bocca e sparano cazzate ok però io personalmente come stanno le cose non do più un cazzo di consiglio è chiaro? non do consigli perché il consiglio nel 90% dei casi è come la carta igienica ci puliscono il culo lasciano il vactor e poi tirano lo sciocco sinceramente ma anche no arrivederci arrivederci